Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate a partire dalle 8 di questa mattina e sino alle ore 18 della giornata di martedì 10 dicembre. A partire da oggi venti forti da nord ovest su tutta l'isola fino a Burrasca sulle coste settentrionali e occidentali e in prossimità dei rilievi. Dalla mattinata di martedì 10 dicembre rotazione dei venti da nord e successiva graduale attenuazione a partire dal pomeriggio mareggiate lungo le coste esposte. Dalla Protezione Civile si raccomanda alla popolazione massima prudenza se ci si trova la guida di un'automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forte raffiche laterali, tendono a far sbandare il veicolo. Prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti come quelli all'uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan. Sulle zone costiere la forte ventilazione è associato al rischio a mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo si raccomanda nella nota del centro funzionale di prestare la massima cautela nell'avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare pertanto la balneazione e l'uso delle imbarcazioni.